Sono student ambassador award night, sono studiante di diverse programmi di nostra facoltà, sono riconosci, ma non logramo durante l'anno scolar, non solo accademico, ma anche nel momento in cui ho avuto adizionalmente di studiare, non ha rappresentato la facoltà, non ha aiutato il collega non studiante, non ha rappresentato le diverse attività della Università di Aruba, mostrando le skilli di comunicazione e le skilli social, e nel momento non è volontario, quindi non è un'iniziativa, non ha rappresentato noi come università. Nel momento mi chiede a Duna e student ambassadors un pa'bien, e bisogna seguire il lavoro qui, per fare il riconoscimento che c'è un stop per il futuro, per seguire il sviluppo delle skilli, ora per fare la vita professionale e la vita personale. Nel momento mi chiede a agradezci alla Office of Student Affairs, Charisse che sta in charge con il suo collega, per avere un anno che sta organizzando l'evento qui, e quindi è un momento in cui noi stiamo riconoscendo gli studenti, che è una parte importante della nostra comunità, dell'Università di Aruba, e poi naturalmente grazie ai nostri colleghi, che aiutano i studenti, anche inoltre, e poi inoltre in Sportlight. Quanti studenti ricevono il riconoscimento? Noi c'è tre studenti ricevono il riconoscimento, e anche i studenti di rappresentare il programma, in quattro facoltà, in AFI, e anche alcuni di rappresentare il support office, e anche inoltre, tre di nostri club, che rappresentano l'Università di Aruba internamente, come club di deporte, o club social, e anche noi rappresentano come un'Università di Parfù, e portano l'Università di Aruba. Grazie a tutti!